cross, palla deviata da Lagumina e poi una trattenuta calcio di rigore il fallo subito da Rispoli commesso da Morero giallo per il difensore argentino Coronado Palermo 1 Avellino 0 la firma al nono minuto di Igor Coronado arriva Bayushi cross deviato, Pomini anticipato, Raikovic lo salva che errore del portiere del Palermo servito dalla Verone, cross arretrato una buona idea di Tacchio palla respinta di Tacchio un rigore in movimento che di Tacchio spreca Traikovski dentro da Lagumina Antomino Lagumina dopo un minuto e venti secondi il suo quinto gol in campionato il cross di Molina di Testardemagni Ponini due volte la palla rimane lì si salva il Palermo Coronado può attaccare da sinistra pall' ancora per Lagumina calcio di rigore il fallo di Moreno sulla Lagumina ancora il centrale argentino parte Traikovski perfetta la trasformazione ancora dal dischetto del Palermo e sono tre errore clamoroso regalo per Cabezas puntato Raikovic Cabezas il tiro che Pomini devia non c'è più tempo finisce il match del Barbera torna alla vittoria il Palermo 3 a 0 grazie a tutti